Buongiorno, io sono Oksana. Immaginiamo che il nostro nuovo lettore CD portatile non funziona. Ma si sa, noi non ci intendiamo molto di tecnologia, così decidiamo di riportarlo al negozio. Excuse me, I bought a portable CD player the other day, but it doesn't work. Mi scusi, l'altro giorno ho comprato qui un lettore CD portatile, ma non funziona. Now, what seems to be the problem? Che problema ha? I put a CD into my portable CD player, pressed play, but nothing happened. Ho inserito un CD, ho schiacciato il tasto play, ma non è successo niente. Maybe the portable CD player is faulty. Have you got it with you? Forse il lettore CD portatile è difettoso. Ce l'ha con sé? Yes, here it is. Sì, eccolo. Thank you. Ah, here is the problem. There aren't any batteries in it. Grazie. Ah, ecco qual è il problema. Non ci sono le pile. But it said on the box that the batteries are included. Ma sulla confezione c'era scritto che le pile erano incluse. Yes, they are. But you haven't put them in. Sì, ma lei non le ha inserite. Internet e computer. Could you recommend a good computer? Potrebbe consigliarmi un buon computer? Which is the latest model when it comes to laptops? Qual è il modello più recente tra i portatili? Could you show me how it works? Può mostrarmi come funziona, per favore? Is there an internet connection? C'è la connessione internet? I can't connect to the site. Non riesco a collegarmi a entrare nel sito. Is there a Wi-Fi connection? Avete un collegamento Wi-Fi? I need a pen drive. Ho bisogno di una chiavetta USB. I need to copy, burn a CD. Vorrei copiare e masterizzare un CD. I need to check my email. Vorrei controllare la mia posta elettronica. I need to download, print a file. Devo scaricare, stampare un documento. It's crashed. Si è bloccato. Can I connect my camera to this computer? Posso collegare la mia macchina fotografica a questo computer? Ripetiamo insieme. Pen drive Laptop Wi-Fi connection Hard disk Internet point MP3 player CD writer External memory Mouse Mouse E-mail Software Enter Key in Enter Key in Disconnect Hard disk Document Drive Email 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 address File Window Format Internet service provider Attachment Toolbar Menu bar Navigation bar Browser Folder Ink cartridge Trash Computer Laptop Cursor Parole a confronto Nel Regno Unito il cellulare si chiama mobile phone, cioè telefono mobile. Negli Stati Uniti d'America invece si chiama cell phone, telefono cellulare. Telefono I'd like to make a call to Italy. Vorrei fare una telefonata in Italia. Could you get me this number, please? Mi chiami questo numero, per favore? There is no answer. Non risponde nessuna. It's engaged. È occupato. Please hold the line. Attenda in linea. I'll put you through. Le passo la comunicazione. What's the code for Italy? Qual è il prefisso per l'Italia? We got cut off. È caduta la linea. Where can I buy a phone card? Dove posso comprare una scheda? Telefonata Hello? Pronto? Yes. Hello? Sì, pronto. This is Rossi. I'd like to speak to Mr. Begley. Sono Rossi. Vorrei parlare al signor Begley. I'm sorry. He's not here. Mi dispiace. Ma non c'è... Please, call back later. Richiami più tardi, per favore. You've got the wrong number. Ha sbagliato il numero. Who's speaking? Chi parla? I can't hear you. Scusi, ma non lo sento. Ripetiamo insieme. Call waiting. Phone box. Phone booth. Prepared calling card. Mobile phone. Switch board. Call. Reverse charges. Call. Collect call. Ripetiamo insieme. Send a text. Telephone number. Dial a number. Operator. Code. Hang up. Receiver. Answer. Unit. International. Phone card. Answering machine. Voice mail. Charge rate. Apparecchia accessori vari. Amplifier. Calculator. Loud speaker. Game console. Headphone. Dvd disk. Dvd disk. Hi-fi system. Switch. CD. Compact disk player. Mini disk recorder. Dvd player. MP3 player. Extension lead. Extension lead. Radio. Alarm clock. Mobile phone. Cordless telephone. Television. Liquid crystal display television. 940. Nintendo. ämpchen. Ho, iMJ. L,O,N,L,L. Malone. Tits, 於. Grazie a tutti